smettile combattimi ti prego umano prendi la mia anima io non voglio uccidere papà diventeremo una famiglia è invece no ciò 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 no NOOOOO! Te l'ho detto! E' uccidere o essere uccisi? Sionate! Salve! Sono io! Flowey! Flowey! Ti ammazzerò! Ancora! e ancora! No! Io ti combatterò! Tu davvero pensi di potermi fermare? Se lo pensi davvero sei un idiota! Chiudi il gioco! Aiuto! Aiuto! Aiutemela! Si! Aiutemela! 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 Aiuto! 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 Tu... Tu... Pensi di potermi uccidere? Io sono un dio! On Netflix! Aiuto! Ehi, ma che? Io... Io non deciderò! No! Uccidimi! No! Uccidimi! No! Uccidimi! Uccidimi! No! Uccidimi! Sì! Sì! Devi farti degli amici per il vero finale! Ho visto che c'è anche una seconda parte sicuramente lo farò! Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto e noi ci vediamo ovviamente alla prossima come sempre! Ciao!